Se il pianeta ha bisogno di tanti alberi per sopravvivere, il mondo ha bisogno di tante persone attive per diventare un posto migliore. Recita così la targa inaugurata al Parco di Montecucco nell'ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anno dalla fondazione del gruppo di Piacenza di Amnesty International. Nello spazio verde è stata inaugurata anche una panchina gialla dei diritti ed è stato piantumato un ginkgo biloba dall'Associazione Cosmonauti. All'evento hanno partecipato sei classi della Scuola Media Calvino e il parlamentino degli studenti della Vittorino da Feltre. Noi come gruppo abbiamo sempre lavorato molto con le scuole, facciamo educazione ai diritti umani dall'elementare fino all'università e quindi ci teniamo che proprio i ragazzi ci tenevamo che potessero partecipare. Quindi è importante, i parchi generalmente sono frequentati dai ragazzi o comunque dalle famiglie e avere anche a Piacenza una panchina che rappresenta i diritti umani e avere un albero da curare, quindi di cui prendersi cura, lo riteniamo molto molto importante per la generazione futura, visto che la nostra generazione non ha speranza, già non riusciremo sicuramente ad ottenere un mondo meglio gestito rispetto ai diritti umani, però ci teniamo ad offrirne uno migliore alla generazione futura. Cosa rappresentano nello specifico il ginkgo biloba? Si è stata scelta questa sia perché ha i fiori gialli ma soprattutto perché il ginkgo biloba rappresenta la forza, la resistenza ma anche la resilienza perché il ginkgo biloba c'era già milioni di anni fa e in più è l'unica pianta che ha resistito alla bomba atomica. Ovviamente non è rimasta viva completamente però da un pezzo di tronco, da un pezzo di radice è risorto l'albero. Una mattinata dedicata ai diritti con la collaborazione del Comune. Crediamo che sia fondamentale lavorare con i ragazzi fin da subito per ragionare insieme su quelli che sono i diritti e soprattutto su quello che vuol dire essere cittadini attivi, fare parte di una collettività e quindi in qualche modo spendersi tutti per migliorarla. L'inaugurazione si è conclusa con la lettura da parte degli studenti degli elaborati del progetto Facciamo Crescere i Diritti.